Buon Natale! Buon Natale a tutti! Allora questa è la mia tavola imbandita, ci ho messo anche una bellissima candela, tra poco stiamo per mangiare, c'è di giacca e qui la frutta, magari manca il primo. Ora vi faccio vedere gli antipasti, questi sono dei tramezzini, ho messo il burro, poi ho messo i sottaceti e il salmone, questo qui è il salmone, non ho messo la maionese perché un po' me ne sono scordata, diciamoci la verità, e poi perché magari è troppo pesante, quindi come vedete non è che mangio tantissimo, come dite che mi strafugo, assolutamente no, siamo i tre, mangiamo solamente questi antipasti qui perché poi abbiamo due tipi di primo che ancora sono sul fuoco, poi magari abbiamo anche questo qui, abbiamo da mangiare come aperitivo diciamo, questo guardate bellino questo cestino, questo è alla fine e poi abbiamo, alla fine abbiamo questo, il bauli, cinque cereali e questo vedete, bello, qui faccio tutta la panoramica, comunque vi auguro buon Natale, anche a me e ai più aceri mie, perché mi hanno già preparato una bellissima tomba, ve lo ricordate i lavori di quell'altro video, benissimo, e prima faccio un bel pranzo, dice c'è l'ultima cena, questo è l'ultimo pranzo e poi magari mi metterò nella tomba, vabbè dai scherzo, e insomma, e niente, ci sono un sacco di ether, voglio rispondere a, come si chiama, che mi voleva fare da moderatore, scusate non mi ricordo insomma, quello gli fa da moderatore a Mauri, mi ha chiesto di fare da moderatore, ora non so se è il fake o quello vero, quello originale, allora per ora non c'è bisogno di fare da moderatore, poi comunque vedremo, vuol dire che quando ne avrò bisogno saprò a chi rivolgermi, per ora no, per ora faccio da sola, dai sono degli ether così, vabbè, e va bene, ora devo mangiare, e niente, e poi ho due primi, ho i fici al sugo, e il tipo dei ravioli di patate, sempre con lo stesso sugo, e poi ho lo zampone, ho le lenticchie, ho già preparato, è tutto pronto, e questi sono gli antipasti, non è tantissimo, non è tantissimo, perché non mi voglio strafugare, è una cosa così, diciamo, eh, va bene, ok, guardate carino questo, le clementine, va bene, ora vi saluto, buon Natale, e poi semmai farò un video domani o stasera, insomma vedrò, ok? Ciao ciao a tutti, buon Natale, un bacio grande, vi abbraccio tutti, e ciao ciao ciao!